È proprio il caso di dirlo, dalla Cina con furore arriva una casa automobilistica con un obiettivo molto ambizioso. Il marchio cinese Forting promette infatti di rivoluzionare il mercato e per farlo si presenta in Italia con una gamma articolata su due piattaforme principali, T5 e U-Tour. Il target commerciale è ambizioso, 5.000 vetture vendute all'anno entro il 2026. Iniziamo dalla scelta del logo, un leone simbolo di fiducia, forza e coraggio che fa scattare un déjà vu neanche troppo lontano, ma quel tanto che basta per indispettire lo storico leoncino Peugeot. È il claim, Running for Future, ovvero corriamo verso il futuro, scelto dall'azienda che vuole farsi strada nell'intricato mercato italiano, con testuali parole prodotti di qualità medio-alta ed una gamma diversificata di modelli, dai SUV ai veicoli MPV. L'azienda TC8, unico importatore e distributore ufficiale del brand Forting nel bel paese, ha annunciato l'arrivo di questo marchio, che forse in Italia non abbiamo mai sentito, ma che fa parte del colosso cinese Dongfeng Lyunzu Motor Company, uno tra i primi quattro gruppi automobilistici cinesi. I punti di forza sono chiaramente una brand molto importante, una casa costruttrice tra le principali produttrici cinesi di automobili, che è il gruppo Dongfeng Lyunzu, autovetture di fascia media SUV e MPV, con linee estremamente aggressive e sportive, un'ottima qualità e una elevata tecnologia dagli interni e chiaramente un prezzo estremamente competitivo, quindi rapporto qualità, prezzo, stile e tecnologia, se vogliamo sintetizzare i punti di forza dei prodotti Forting per il mercato italiano. Ma veniamo alle vetture che vedremo presto su strada. La piattaforma T5 SUV di medie dimensioni del segmento C comprende due modelli, T5 EVO con motori benzina e dual fuel GPL e T5 HV full hybrid e poi la Friday EV, per ora in versione long range. Il modello di punta T5 EVO offre un design aggressivo ed una tecnologia all'avanguardia, con interni curati e dotati di un grande display multimediale touch. Il motore, 1.5 da 130 kW, è di derivazione Mitsubishi. La T5 HV offre invece tutti i vantaggi dell'ibrido. La piattaforma U-Tour rappresenta i veicoli MPV disponibili in configurazioni a 5 e 7 posti, sempre con un'ampia scelta di powertrain, inizialmente con le versioni termiche a benzina e dual fuel e nella seconda parte dell'anno anche con la motorizzazione full hybrid HV. Il design aerodinamico e la spaziosità interna rendono U-Tour ideale sia per le famiglie che per utilizzi professionali. Un pelo sopra la T5 con cui è in comune la parte termica, U-Tour cambia il rapporto finale più corto per garantire la stessa maneggevolezza per un'auto però più pesante. Uno dei principali punti di forza di Fording è il rapporto qualità-prezzo. I veicoli offrono un'ampia gamma di equipaggiamenti di serie, tra cui i sistemi avanzati di assistenza alla guida e interni di alta qualità a prezzi competitivi. Certo, sicuramente il cambio diamantato della monovolume e il leone dorato della sportiva non sono l'emblema di un'elegante sobrietà, tuttavia la garanzia di 5 anni e 150.000 km con un'estensione ad 8 anni per le batterie aggiunge ulteriore valore. Probabilmente la sfida più grande che si troverà ad affrontare il marchio Fording è quella della fiducia dei consumatori italiani, tradizionalmente scettici verso nuovi brand soprattutto se di origine cinese. Inoltre la rete di assistenza, sebbene in espansione, deve dimostrare la sua efficacia nel lungo termine. Comunque le carte in regola ci sono, con una gamma diversificata e tecnologia all'avanguardia il marchio cinese potrebbe ridefinire le aspettative dei consumatori italiani offrendo soluzioni innovative e accessibili. Se la scalata al successo riuscirà o meno, lo scopriremo più avanti, a parlare saranno le vendite. Grazie a tutti!